ci sono essere di luce in melli 5 dove testa 1 fisso le donne la testa e nello nei sentimenti del cuore qua all'interno del tetto e poi gli altri li vedo sempre che si muovono in realtà anche loro però sono un pochino mi sembra come se interferiscono di più a livello mentale 1 sentimentale in questo senso testa e cuore ma si muovono nel senso del cuore il corpo introno escono si entrano escono e si muovono anche nel corpo però in particolare questi due ho visto con le recorrerà di queste due parti del corpo sono un pochino più interni cause soterica del concetto dell'idea di felicità come peccato mente la sua ciò che gli è stato insegnato da questa vita dai dalla sua famiglia è come se fosse vedo questo è come se è invidia in realtà io vedo invidia nei suoi confronti vedo tanta invidia vedo un suo voler stare bene dall'altra parte comunque viene percepito come lei sta bene io no e quindi c'è tanta invidia ma una cosa mentale sta nella mente ed è apportato sia dalla dalla sua tradizione familiare diciamo così ovviamente insomma una persona che cresce con persone che con genitori che magari ti dicono che devi faticare che per che la vita è difficile che per stare bene deve essere tutto complicato ovviamente nel momento in cui lei dice scopre che non è così perché lei lo sa anzi è esattamente il contrario è come se si sentisse in colpa nei confronti anche della sua famiglia io vedo questa cosa qui quindi risiede nel mentale in realtà quindi mentale ma si interagisce con questo concetto qualche dl sì assolutamente sì ovviamente sì la quello che sta nella mente e soprattutto a me è quello che sta nella testa in all'interno della in concomitanza del cuore qui ok chi è il più importante quello che sta qui nel cuore grado s 19 ok è contento di vederci mentre me l'hai chiesto visto che usciva dal suo corpo si presenta come un angelo però un angelo con aure strano vedo un angelo con l'aureola e le corna no non è contento cosa pensa di me tanto lei è nostro lei ci crede a noi non sarai dove io toglierai questo pensiero come ti chiami ho la fama quanti anni hai ho miliardi di anni chi sono gli uomini cacca e tu io prendo gioco di lei tutti i tuoi simili sono gli angeli o ci sono altri che sono angeli ci sono altri che sono angeli e non sono esseri di luce no cosa sono elohim nefili quelli che voi chiamate elohim ok quindi anche peggio di te molto peggio di te tu non sei niente rispetto a un elohim io sono ovunque io sono tutto quello che voi volete che io sia ok per una persona è meglio avere dentro uno come te o un elohim che è un angelo uno come me quindi l'elohim è meno potente di te io sono più forte noi stiamo ovunque loro no ok ma non è l'essere ovunque che determina la forza è una gerarchia tu sei gerarchicamente sopra un elohim no come vedi sei più scarso di un elohim quindi l'elohim che è un angelo è peggio di te ma io sono forte definisci mi con tre aggettivi nellì quello che pensi davvero stupida sensibile troppo debole se definisci mi con tre aggettivi la religione cattolica bugia inganno porta per ingannare gli esseri umani tu sei contento che ci sia la religione cattolica ancora così diffusa e radicata nel pensiero di alcuni certo ma state prendendo terreno ma tanto se non è per la regione cattolica c'è il calcio c'è il buddismo ci sono le feste dei bambini sei lì anche lì tu certo tu hai a che fare con i pensieri negativi che negli a quando accarezza o bacio a sua figlia ovviamente sì se tu quindi sì il grande o la fama sono io perché lei oscilla la riuscì tra il bene e ciò che lei definisce male ha paura di cascare nel male e io gioco su questo quando non sa che non esiste bene non esiste male la religione cattolica si basa sul dualismo non sulla dualità tra bene male a diavoli e gli angeli buoni e cattivi questa è la certo è qui che noi giochiamo niente di più stupido e semplice me lo permetti cosa vuoi tu cosa vuoi da nell e qual è il tuo obiettivo quando sarai felice quando hai finito il tuo compito ma io l'anima si è riuscito ad averlo non ancora ci stiamo lavorando dietro al non finire le cose è una domanda ci sei tu anche io sono quello più attivo con lei stesso amico quando si è entrato quei anni a scuola in che occasione si sentiva triste e non riusciva a finire un problema di matematica sono arrivato io in una chiesa tu ti trovi bene o male nella chiesa durante un battesimo noi si chiama energia perché voi c'è lanciate c'è una grande festa di angeli che girano sopra la chiesa quindi un battesimo per esempio è una festa pazzesca per voi una grande scompacciata di energia assolutamente sì noi le abbiamo segnate nel nostro calendario e ci incontriamo tutti insieme ci ricarichiamo in un battesimo prendete l'energia un po di tutti o soprattutto del bambino battesimato è uguale sede tutti uguale sede tutti i netti chi è il più in etto al mondo qui siete voi tutti insieme ma io non credo in te sono un in etto tu rompi co io non so ma tu li hai i co a questo punto tu hai un corpo perché mi vengono se la mani se lo sai perché non lo sa nelli lo hai un corpo io vivo nel suo corpo hai una parte subliminale con la sua va bene sabrina disconnetti si da ora alla fine sei capitata nella tua prima canalizzazione da come stato naturale ma che brutto quello che pensa questo qui sei entrata in che modo è come se mentre tu mi fai le domande io realtà le facevo a lui le domande no perché tu mi dicevi chiedi gli chiedi gli chiedi e mi sono l'ho voluto senso l'ho permesso mi sono innalzata si mi sono innalzata e ho detto tanto non può farmi nulla quindi è entrato perfetto però avevo un grande formigolio su tutto il corpo proprio bruttissima sensazione a quanto vibra adesso 7 miliardi puoi alzare questa frequenza 12 un grande è un lontano ricordo la famiglia la vedo all'agio ovviamente il nome è una bella invenzione allora ti richiedo le cose che ho chiesto a lui perché in ogni caso lui ha un grandissimo racconta frottola diciamo non circa quello che pensa ma a volte raccontano un po di rischi balli alle che ride adesso lo vedo lontano sulla destra lo tengo lontano ma sta ridendo tanto fa una tutta fine gli elohim i nephilim sono sopra nella georarchia delle interferenze umane se ok però non sono essere di luce no però quello che ho visto come se fossero comunque li vedo proprio come angeli cioè i primi angeli della bibbia meno questo quindi diciamo che il l'archetipo san raffaele sangue cioè scusa arcangelo gabriele arcangelo raffaele eccetera sono più nefili ma anche se in realtà molti esseri di luce dicono di essere quindi un archetipo è un concetto io vedo questo se se io vedo questo c'è stato un arcangelo raffaele no però c'è stato un elohim che ha detto io sono assolutamente sì però in realtà non è come concetto come in realtà non esiste non esiste come non esiste gesù come non esiste però c'è stato un uno di loro che ha in personificato questa questa veste in realtà quello che vedo è che loro vivono grazie alla nostra energia cioè nel senso se anche la religione anche tutto quello che noi crediamo a modo di esistere solo perché noi troviamo esiste no in realtà non esiste niente improvvisamente tutti dicessero alla religione non esiste loro scompaiono assolutamente si contemporaneamente ciò che ciò che dà potenza alle credenze e l'energia nostra che è molto più potente ovviamente dite la loro perché loro non esistono chi è inventato la variante interessante lo riconosco dell'arcangelo raffaele raffaele che schiaccia un re sbagliarmi con gabriele adesso non ricordo mi sembra raffaele che schiaccia il serpente chi è che ha inventato questo archetipo questo teatrino chiaramente serpente è il suo amico e gli dice facciamo il teatrino tu fai male io faccio il bene esami vedi come li vogliamo è semplicemente un patto tra di loro perché rappresentano il male e il bene quindi è semplicemente cioè noi abbiamo perso la le redini quindi abbiamo dato potere a loro di poter fare delle cose sotto senza il nostro controllo quindi semplicemente il serpente e rappresenta i rettiliani vedo e l'arcangelo per noi rappresenta il bene e il male e con il caso con baris ma forse tra virgolette male senza tra virgolette decisamente peggiore l'arcangelo di un rettiliano assolutamente in una gerarchia militare il merettiliano un soldato da di terra l'arcangelo è già un bel generale assolutamente sì un altro modo che prenderci in giro per confondere il fatto che bene male cioè in realtà per loro loro stanno facendo bene per se stessi no in realtà bella questa quando io ho chiesto le carezze i baci alla figlia e lui ha detto anche sono anche io cosa intendeva allora lui interferisce tanto a livello c'è questa dualità che vedo forte nelli da prima che parlava cioè bene male bene male come se lei dovesse o stare viva il bene o sono completamente negativa viva il male cioè nel senso c'è una dualità il loro gioco perché non è solo lui sono anche gli altri dl qui vedo tanto l'azione delle dl a livello emozionale e in realtà e quei pensieri non sono suoi o meglio giocano su questo suo dubbio della dualità che lei ha di bene e male di concentrazione su questa distinzione e lo prendono e lo rivolgono in maniera negativa nei confronti di una delle cose che lei più ama nella sua vita in questa vita cioè giocano proprio sui sentimenti suoi quindi amplificano un suo dubbio che va a che lo rivolgono nei confronti di un essere che per lei una delle cose più importanti che ha vedo un forte ovviamente legame amore di questa bimba e da lì gli fanno nascere questo dubbio e quindi lei passa e spende tanta energia a dire ma perché e quindi c'è tutto un gioco lo vedo come un vizio scusatemi come un circolo vizioso esatto ok e non finire le cose dieta hobby sport a una causa di terra vedo diverse cose uno gli edl che comunque anche lì la in p in pri in p non riesco a parlare questa sera scusate mi farà solo esatto e quindi lei è come se avesse una forma di pigrizia nei confronti di definire la situazione e poi lo vedo anche come un una cosa mentale a livello di impegno cioè prendere un impegno con se stessa ecco vedo questa cosa qui in mentale come se lei avesse percepisco una sorta di paura nel dire ok se io decido che devo andare in palestra ma è un impegno è come se si scappasse dall'impegno quindi da un impegno all'altro non lo riesce a finire perché come se lei avesse una sorta di paura di fermarsi e prendere un impegno di portarlo a termine innanzitutto ci sono anche gli edl ma perché perché questo se lei riuscisse a iniziare e finire più cose la sua autostima la sua volersi bene con se stessa aumenterebbe e quindi automaticamente aumenterebbe la sua energia sua vibrazione e tutto quanto quindi c'è sia del mentale però sono sempre loro che giocano sul mentale sull'impegno la paura di impegnarsi io vedo questa cosa qui bene causa esoterica del fatto che tutte le volte che le fanno dei complimenti ai capelli o la carezza le accarezza dei capelli dei complimenti in generale e le fanno una carezza lei ha dei problemi alla pelle e al ai capelli capelli si spezzano i capelli si perdono la pelle orticaria inspiegabilmente brufoli orticaria problemi di vita passata o andiamo questa vita passata io vedo una vita in non mi viene le favelas ecco in brasilio del janeiro altra città meno nelle favelas si brasile però non riesco a identificare bene la città vedo questo villaggio mentre loro dicevamo e pedo delle lei è una lei ha avuto a che fare con con dei vedo delle bambolette con dei riti con delle cose vedo questo è una vita parallela vita precedente ora donna video una signora una donna con dei capelli lunghi grigi con un fuoco acceso davanti sotto una tenda tendone e vedo che delle persone vanno da lei per risolvere dei problemi si affidano a lei per che per liberarsi di qualcosa quando comunque vabbè sappiamo perfettamente gli altri questi diritti che c'è ben altro insomma però vedo questa scena qui come se fosse una una strega una santona del posto di questa favelas va bene facciamo una cosa nuova questa è una vita parallela precedente non ci interessa periodo di fatto parallela è una variante di nelly non è una cattiva brutta strega che è una variante di una variante di lei ora ne forgiamo un pettine scusami mi sto un attimino perché sto sentando dei botti dentro casa mio e sto da sola ok eccomi forgiamo un pettine la cui materia non è né plastica né osso né legno è la pura informazione delle mie sessioni oggi del pettine a tante informazioni almeno 50 sessioni e offriamo il pettine alla strega delle favelas che ora può vedere quello che stiamo facendo può vedere la sua vita parallela quella linea di nelly e chiedersi che hanno siamo perché lei lo sa che nelly e lei siamo nel 1789 ok come si chiama questa strega tra virgoletto lussi ci vede si vedo lei che si è alzata stava facendo delle pratiche per questo sento un po stava facendo delle pratiche davanti a un fuoco e quando l'abbiamo chiamata lei alzato la testa e lei siamo dal 2021 abbiamo un pettine per lei lo vuole lo prende lo guarda l'ha già presa mi ha allungato la mano io l'abbiamo dato lo guarda e lo passa sui suoi capelli lunghi lunghi in grigi adesso lo ha spezzato e lo sta mangiando è cambiata è una ragazza si è trasformata in un è sempre libera una ragazza è una ragazza che che fa del cibo lavora con il cibo adesso lei ha cambiato qualcosa qui è nella favela si è sempre lì però non è più come se non facesse più quello che faceva prima come se cambia il suo lavoro non sceglie un'altra strada in questa vita molto bella ragazza che la vedo che cucina insieme a dei bambini a dei bambini intorno c'è una tenda e lei sta cucinando per la sua famiglia cioè il fuoco mentre prima faceva dei faceva delle pratiche adesso lo usa per cucinare i suoi bimbi sì ok non c'era quindi il malocchio era una connessione con questa vita precedente assolutamente sì quindi l'orticaria i capelli spezzati la perdita di capelli il fatto che la invidiano la lodano è legata era legata a questa vita che lei stava facendo molto bene dovrà la nonna essere da lì e canta lei nella sostanza la vedo proprio lì nell'anelli di oggi non tutto tutto il tempo tutta la sessione che stanno davanti all'anelli di oggi e davanti alla nonna di nelli adesso tiriamo giù un telo bianco e proiettiamo la talo fra la nonna le parti salienti della vita della nonna in cui se ci sono sono venute delle interferenze 34 immagini anche meno nella vita della nonna sì se è stata interferita ovviamente vedo questo lo sta mostrando lei c'è un telo bianco è come se lei arrivano delle macchie di pezzi di vita ho visto un qualcosa legata a al suo marito al suo alla sua al suo compagno del di questa vita di oggi poi ha visto un legame anche lei con vedo delle sirene mi fa vedere delle sirene quindi ho visto un legame anche lei con l'altro universo la nonna è attaccata la terra a lei alla test testa vedo dei luoghi un paese non so meno un paese come se fosse legata tantissimo alla sua tradizione il fatto che sia legata alla testa di nelli crea qualche problema nell'io niente un migranio però lei non se ne rende conto come l'ho anche dimenticato quindi le migliori di oggi la nonna valente cioè volente ferire lei non lo sa nel senso è come se lei vedo spesso questa cosa qui come se non si fosse cioè non si fermo conto quindi valli va da lei è come se dovesse ancora prendersi io vedo questa cosa qui la mamma si prendeva molto cura di lei era molto come se avesse vissuto tanto lei con la nonna non so se nella realtà poi diciamo in questa vita è così però la vedo proprio proprio materna nei confronti di nelli quindi lei continua credere che nelli ha bisogno di lei quindi a stare lì accanto a lei quindi va a trovarla la vedo nella notte la vedo che vanno nella sua casa a cari la carezza la vedo e lei ovviamente lo accetta perché è un legame molto forte la nonna e pettinato spettinata non vuole darsi una pettinata con uno stupettino e magico adesso si è a blocca cioè mi sta guardando con come per dire quindi quindi che cosa sta succedendo succede che le vecchie generazioni erano quasi completamente prive di informazioni e che le informazioni in questo gioco maledetto in cui siamo infilati e ci siamo infilati da soli sono tutto le informazioni sono tutto religione serie di luce sono puttana te le informazioni sono tutto e una volta c'era solo la religione puttana te vuole darsi una pettinata con un pettine ricco di informazioni così da capire cosa succede quando si rimane attaccati alla terra cosa succede quando si rimane bloccati come disincarnati alla terra generando problemi negli umani ancora incarnati e ritardando in maniera imperdonabile il proprio personale percorso lei dovrebbe già essere da un'altra parte e invece ancora qui legata dei luoghi al paese magari anche alla chiesa del paese a generare emicrania nelli lei dice che non lo sapevo io pensavo che che facevo del bene e dice questo lei religiosa la nonna si vuole darsi una pettinata con il pettine morire essere libera mi sta dicendo e dice se questo mi intera si ho visto quello che è successo con nelli questo la informa se poi lei si vuole liberare è una scelta le informazioni non fanno male a nessuno e non sono interferenze sotto informazioni pulite verificate vere verificabili e ognuno poi faccio che ne vuole chiaro le può verificare prende il pettine che noi stiamo dando si trasforma in una spazzola una spazzola di quelle vecchie anni 80 quelle con la pallina in fondo al lago ok pallina rossa tipo qualcosa del genere e si sta pettinando e lei aveva dei capelli prima di g corti mossi ricci adesso si sta pettinando i suoi capelli diventano lunghi lunghi castagni e dei capelli lunghi castagni si è adesso si mostra come una ragazza una ragazza giovane con i capelli castagni lunghi come se lei ha preso le sue informazioni e le nostre informazioni se fosse ringiovanita se mi dice come se era ero troppo stanca per affrontare la mia nuova vita adesso ho dovuto mettere ho dovuto prendere queste informazioni e diventare più giovane per essere pronta a affrontare semplicemente un un modo diverso di vivere perché lei adesso si sta rendendo conto cosa si è di cosa si è reso si è resa conto sul tema religione cattolica che gli angeli non sono quello che lei chiedeva che erano e cosa pensa di gesù l'archetico gesù come se lei mi sta mostrando che lo vede come pensava che lo vedeva come un salvatore quando si sta rendendo conto che lei si è adesso potuta trasformare la sola con la sua energia e quindi mi dice come se si sta rendendo conto che io sono quello che noi pensiamo che gli altri che questi esseri sono la potenza dentro di lei lei nel trasformarsi ha messo in atto subito la la sua capacità come se ha scoperto adesso di averla e quindi si rende conto che tutto quello che lei pensava della religione di gesù di in realtà era come di attribuire un potere a qualcosa di esterno quando si è resa conto che il potere a lei c'era lei se io dico la nonna la nonna è dio adesso si è fatto vedere un'altra trasformazione mentre lo dicevi ha girato su se stessa e si è trasformata adesso in una ragazza di rezza bionda come si sta mettendo in atto il fatto che lei sa che in realtà addio la nonna ha interferenze ma anche se come disincarnati è un po relativo dire mentre prima parlavamo di dove la nonna vedevo due angeli dietro che la una destra una sinistra ma in questo momento io come se prendendo l'informazione accade tutto simultaneamente lei li abbia allontanati le allontanate tassi erano edl elohim o altro questi due anni edl però un etl un diei elohim anche un elohim c'era perché lo vedo più più forte rispetto a un c'è più grande rispetto né dl che semplice energia ok cosa vuole fare vuole andare sulle altalene mi dice vuole andare vuole lasciare prima di andare un messaggio a linelli mi viene subito mi manchi tanto anche se andrò da un'altra parte sappi che io sarò sempre con te i tuoi pensieri passami andare però per favore perché se mi pensi troppo io non riesco andare via